e stiamo provando a collegarci con pietro scidullo presidente di freewheels eccolo qui buongiorno pietro bentrovato ciao a tutti gli amici di te del padre pio ben ritrovato bravo esatto sei un caro amico di padre più tv abbiamo parlato di freewheels qualche tempo fa ecco prima di chiederti prima ancora di chiederti dove sei e cosa state facendo ti chiederei di spendere una parola appunto sul progetto freewheels è un'associazione che si occupa di promuovere stili di vita sostenibili attraverso l'esperienza del cammino un cammino che può e deve essere per tutti anche per chi ha esigenze di accessibilità morto bene e appunto la testimonianza che questo sia possibile ce lo restituisce proprio la l'immagine video in tempo reale che ci giunge da dove in particolare in questo momento stiamo attraversando il straordinario territorio delle marche non avevo mai camminato in questo paesaggio è la prima volta che vengo anche nelle marche e poter condividere questa esperienza con dei nuovi amici è regalo più grande che potevamo farci molto bene siete nelle marche perché avete solo qualche giorno fa dato il via al cammino sui passi di francesco in cammino per l'accessibilità e per la pace un percorso che come stiamo vedendo dall'immagine grafica che la regia sta condividendo tutto schermo da ancona vi porterà fino a roma siete pronti siete siete pronti siete ben organizzati bene equipaggiati anche perché il tempo è un po ballerino devo essere onesto siamo super equipaggiati ma il tempo è stato molto clemente che la squadra di free wills ha lavorato un anno intero e un mese fa abbiamo deciso grazie veramente alla collaborazione di tutti i partner gli sponsor di partire per questo grande viaggio sui passi di francesco da ancona a roma per sensibilizzare verso un giubileo più accogliente per tutti e sì siamo in cammino anche verso il giubileo pietro io volevo anche coinvolgere la collega giornalista maria pia piccia fuoco che dall'altra parte dello studio così ecco maria pia se vuoi poi intervenire a tuo piacimento lo faccio particolarmente volentieri buongiorno pietro buongiorno a tutti voi anch'io sono mezza marchigiana e quindi sicuramente il fatto che ci sia san francesco di mezzo appunto aggiunge interesse a questa iniziativa un abbraccio grande ovviamente ricordiamo che marche umbria sono confinanti che i francescani sono arrivati nelle marche prestissimo adesso non la faccio lunga perché ti voglio lasciare spazio ma ecco secondo te ormai che camminare è per tutti davvero per tutti lo spirito francescano è diventato per tutti beh sicuramente in queste prime tappe abbiamo potuto apprezzare anche l'accoglienza religiosa soprattutto nel nostro arrivo ad ancona e credo di sì che la cultura francescana stia diventando sempre più conosciuta sempre più trasversale e questo è sicuramente a un grande valore umano non soltanto religioso infatti tra l'altro guardavo verso occidente perché voi andate verso occidente parlando di san francesco delle marche dell'umbria e lazio però francesco da ancona è partito verso la terra santa quindi io vi auguro di fare dei cammini anche in quella direzione sarebbe molto bello questo cammino inclusivo che noi organizziamo ogni anno in regioni diverse all'obiettivo anche internazionale quindi vediamo se saremo così bravi così all'altezza di costruire un'esperienza che vada oltre alpe ce lo auguriamo tutti insomma è un valore aggiunto di questo progetto proprio per dire andare oltre è anche il coinvolgimento dell'associazione noisy vision infatti in attesa che una delegazione di loro si unisca a noi con noi c'è questo splendido tandem che consentirà anche a loro di condividere questa esperienza con noi noisy vision si occupa di cammini inclusivi per persone con esigenze ipoacusiche e di vista e quindi insomma non vediamo l'ora veramente di poter testimoniare quanto le vie di francesco siano inclusive però toglimi la curiosità dove siete di preciso ancora in provincia di ancona siamo adesso mi metti in un po in crisi perché non so se abbiamo cambiato di provincia però siamo vi stiamo andando verso poggio san romualdo sì sì quindi allora in queste zone ancora in provincia di ancona esatto esatto ho visto un cartello poc'anzi san vittore quindi siamo in questa fazione san vittore celeberrima paesaggio che stiamo ammirando è un dono un dono agli occhi un dono allo spirito un dono all'anima bene grazie dei dettagli Maria Pia ovviamente Pietro si sente coinvolta perché come ti diceva i miei nipoti ciclisti dopo mi sgridano essendo marchigiana si è sentita particolarmente coinvolta e abbiamo visto la grafica noi che ci ha restituito l'inizio e la fine di questo bellissimo percorso sui passi di francesco in cammino per l'accessibilità e per la pace che come detto da ancona vi porterà fino a Roma quello che Maria Pia non sa è che arriverete a Roma mercoledì 29 per partecipare all'udienza del papa è vero me lo confermo esattamente per me è la seconda volta ma ogni volta come la prima volta poter stringere la mano abbracciare papa francesco è come dire la ciliegina sulla torta dopo un'esperienza così importante forte poterla regalare a mia volta a questi miei compagni di viaggio sarà proprio il culmine di sui passi di francesco e noi anche con l'aiuto di daniela che suppongo stia favorendo questo video collegamento mercoledì prossimo proveremo a sentirci proprio di prima di dare la linea al papa se siamo fortunati anche in quel caso ci restituirete delle bellissime immagini pietro per cui sei un po il nostro invia sarà un po il nostro inviato speciale mercoledì prossimo vi ringraziamo per l'opportunità cercheremo di presentarvi tutto il nostro staff perché veramente senza di loro tutto questo non sarebbe possibile molto bene allora nell'augurarvi un buon cammino ricco di meraviglia e di tanta di tanta pace di tanta serenità che restituirete anche agli occhi di chi vi guarda senza dubbio ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo giorno appunto in cui come si diceva arriverete al termine del cammino a roma mi raccomando in gamba non 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 risparmiatevi ecco regalateci questo bellissimo messaggio di pace di speranza e di inclusività grazie pietro complimenti a te buon cammino buon cammino a voi complimenti a te a tutti quanti voi ci ritroviamo quindi mercoledì 29 quindi non questo mercoledì ma il prossimo portaci con te pietro tanti saluti affettuosi a tutti